Ciao a tutti, io sono Tommaso, io sono il papino, e lui è Mario, che sta facendo Mario? Siamo tornati su Paper Mario, terzo episodio, torno a me c'è un buco, siamo a Burgotod, e Tommaso oggi cercherai di arrivare almeno a Burgotod, no siamo già a Burgotod, c'è scritto Burgotod, no ma questa è una strada per andare a Burgotod, si ma non manca tanto se c'è scritto Burgotod, si ma mi sa che ti tocca una sfida adesso, mi sa che non allarmi, ecco, allarme cartacee, che vogliono questi, che vogliono il nostro volere, certo Olivia se non parlavi, io potevo colpirli, ma secondo me è stata lì che le ha tirate, sì, è sicuro, allora, ma in panchina ci sono solamente due tot, oh cavolo, cosa dobbiamo fare, dovete l'altro? come mi ha risposto, ci sarà una passeggiata, mettere lì che lì non mi faccio un salto, vabbè, come facciamo, ah no, questo è qui, un attimo, c'è qualcosa che non quadra, no, non puoi togliere lì, è semplice, no, lo devi spostare di là, di giù, verso e basso, c'è modo lo spostare di là, sì, sì, ci deve essere in modo, aspetta, ci sono, bisogna scuotere i pannelli, no, aspetta, sbattere, spingere, vabbè, sì, eh, se si ricorda, è scorrere, puoi ruotare ogni anello, ma puoi anche far scorrere le caselle, sì, allora, portalo, premi LOR per passare a ruotare gli anelli, le caselle, vabbè, vai, portalo dove c'è lui, vieni, così, ecco, la tua area di controllo è cambiata, non è più un anello, ma una fila di caselle, ora siamo pronti a far scorrere la fila, allora, guarda, scende, ok, ok, quella era giusta la direzione, ok, 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 adesso, bene, ora si scorre, mettiamo con il bumba tutti in riga, vai, mettiamo l'ultimo LOR per far scorrere le caselle, avanti e indietro, quando è finito, premia, faccia, vai, vai, ok, perfetto, comunque non è uscita, bonus e attacco, vai, ecco fatto, sono tutti belli, una scarpa, giusto? scarpe, eh, vuoi saperti a poco che c'è un problema con le scarpe nuove, perché mi sembra che si consumino qua, eh, vai, 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 queste scarpe non si consumano mai, sono le altre quando le compri, ah, ok, oh, ma ne sono avanti altri, eh, va bene, va bene, va bene, vabbè, è uguale Olivia, si, spostane due, vediamo, vai, vai, no, no, le devi spostare in verticale, ecco, così, spostali, perfetto, ok, informazione è uscita, bonus e attacco, ancora le scarpe, con un colpo di scarpe in testa, mi raccomando, la sincronizzazione è precisa, uno, due, tre, questo qua è un po' meno, dice che toglie che fai il tipo, e ho già di monete, 6.500 monete, abbiamo liberato i bumbaboni, ok, ma, vabbè, perché questi sono di bumbaboni, sì, quelli come siamo noi, siamo salvi, yeah, va bene, adesso, sì, lo so, vabbè, ci fate passare, scusa un attimo, dobbiamo andare lì al, dobbiamo andare in compiere Luigi che fine ha fatto, sapete, sì, sì, bene, gente, adesso, sì, perché le chiavi del carto e ce le ha lui, poi non possiamo tornare a casa, oh, tu mi c'è un fungo, sì, è che qua, adesso parla questa, non lo sarà in vaso, sì, va bene, picco fungo, va, anche se arriva qua il fungo, buco, 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 ok, vai, ti ricordi i giocattoli dei libri, sì, va bene, veramente, e poi dove c'è, tan tan tan, oh, ho chiuso quei robin, non lo so, ma ho paura di scopillo, nemici, tammenici, c'è un buco, ma fai un attento, eh, butta, pari, anunco, anche, no, va bene, va bene, va bene, dai, becca cosa c'è, un altro giocattolo, ma questo, no, 100 monete, buono, altro buco, non bastano, andiamo a, andiamo a, ok, dai, ma, no, dai, tommeno, manchi anche i fiori ti danno le carte, certo, questo è interessante, vabbè, la pietra non bece, dai, becca, 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 vai, 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 ma ci sono gli alberi, non ci posso andare, però, vabbè, dai, tommi, forse bastano, dobbiamo aprire, manca poco, si, si, dai, perché qua, se no, tutta la colla vinilica, ma dai, due monete, vai, 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 attento, non saltate, ah, ma poi è venuto in buchi, oh, oh, cosa c'è di qua, uh, Tommy, pentiamo qualcosa, perché secondo me ha appena, coriandoli, ok, ah, sta appena andando quel buco, perché secondo me adesso appena, dice un buco, vai, sinistra, ah, qua, qua, si, Tommy, adesso appena entriamo, secondo me finisce a questione, ma adesso c'è un boss, ma qua è dove comunque siamo elementati con Luigi, con la macchina, si, e che se doveva parcheggiato, aveva lasciato i vecchiari da sole, nel carto, Tommy, c'è una bellissima, esseri, si, lo so, oh, guarda, è lo strappo strambo, ah, è una panchina, ah, per riposarsi, oh, oh, ve lo sta mangiando, ecco come si fanno gli strappi strambi, no, non hai visto i cammi come quello, come quelli, oh, oh, se la sta mangiando, eh, sì, sta mangiando la casa, oh, aspetta, ma Tommy, ma che vuole, questo qua, mi sa che dobbiamo facere una mega battaglia con questo, ma, eh, mangi, c'è, aspetta, guarda sulla schiena, c'è il sigillo di mio fratello, se non sbaglio, allora è possibile che lo sta controllando, in qualche modo, ah, dobbiamo colpire, dobbiamo colpire, dobbiamo colpire, Tommy, salva qui, ma salva, salva, non ci sa mai, non vuoi erai mica a lasciare qualcosa, no, ma salviamo, non mi fa salvare questa, no, ma che vuole, ma che vuole, quindi, sì, allora abbiamo fulminato, sta piangendo, per colpo sta funzionando, vai, vai, nel piede, vai, vai, colpo di martello, vai, Tommy, ti ha beccato? Sì, tanto c'è la panchina, ci curiamo grazie a quella, ok, andiamoci a sedere, magari se ci fa salvare la signorina, aspetta, guarda cosa stavamo facendo, sono un po' scolo e bussolata, ah, dobbiamo andare a castello di Pitch, sì, sì, dopo, prima fammi riposare, possiamo riposarci un attimo? io non lo capisco che salva, tanto lei muola, la portiamo noi, allora, guarda quanti coriandoli, voglio prenderli, sì, anche perché ti ha dato un po' di martello in destra, Tommy, che dico cosa, vabbè, fai la, la panchina prima, Tommy, passate, va la panchina, riposati, salvia, fai una cosa, salvia, va bene, poi ti riposi e risalvi di nuovo, sì, sì, tranquilloso, mamma mia, ok, va bene, dai, perfetto, quella c'è la casa del martello, 50 litri, perfetto, capo, c'è, guarda, rimarco, tanti impasti e salvati, è dura a rilassarsi, ah, vuole che li sconfiggiamo tutti, guarda, non lo so, non me vuole che li sconfiggiamo tutti, vabbè, entriamo in qualche casa, vediamo se c'è, Tommy, vai lì, che ci dà con il tè, dove sta andando, no, no, non lo voglio, non lo voglio il tè, sì, mi vedo ovviamente, ho in aste case, ci sono delle cose, oh, oh, il ponte è rotto, che vuole, devo sistemare io, il ponte è crollato, ora come faceva la ginger castelli di Pitch, non possiamo che, beh, ah, lì c'è un tubo, forse questo, però mi sembra troppo facile, infatti non è quel tubo, mi sembrava troppo facile, dove li sta portando, eh, infatti sarebbe stato troppo facile, va bene, eh, però tommi, dice un buro, sta attento, secondo me dobbiamo entrare in delle case, forse sì, ce n'è uno, tampe, che sta mangiando tutto, aiuto, andiamo ad appicchiare, dai, sì, prima volevo fare una cosa, vedi questo tipo timido, intanto aiutiamo questo, vediamo cosa ci dice, vabbè, proprio anche quello si sta mangiando tutta la casa, oh, aspetta, magari dici che ci dà qualcosa, grazie, sono in debito con te, posso ripagarti con un'informazione molto utile, se vuoi rimanere il castello di Pitch, vuoi passare dalle foglie lì, ma perché l'ho passata da foglie, ah, ok, andiamo, ma no, sta tenendo graffizio, andiamo a sconfiggere, sta mangiando tutto il villaggio, poi si fa fare ricostruirlo, oh, 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 non possiamo saldino, no, potremmo andare, ah, dimenticavo, ah, servo l'uccino a pitombini, la pestata è l'altro tipo timido rosso, quello che è in pericolo, andiamo aiutato, guarda caso, te l'ho detto, andiamo ad aiutarlo, povero, aiuto, ma c'era in bocca, no, hai un tanto tocco qua, scusa, tipo, eh, non ci basta, va bene, sconfiggere, picchia, dai, picchia, no, dobbiamo prendere abbastanza coriandoli per assieme, tanto quello si sta mangiando il tipo timido, dove li troviamo dei coriandoli qua, adesso siamo in città, aiuto, scendi giù, no, qua sono fiori, fiori, dai, perfetto, vai, attento, martello, proviamo sconfiggere, sì, 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 dai, dietro, aspetta, vai, ok, vai, adesso subito colpisci, dai, adesso che nell'angolo, sta attento, vai, vai, vavo così, vavo così, attento, no, ti ripositi dopo, oh, ha fatto malissimo colpiscilo, asia di cuore, ci cuore, perfetto, ah, non è preso, vabbè, dai, al 46, scacciate le altre cose, no, 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 ci dovrebbero bastare con il tuo suolo, non lo so quello, perché va bene, noi andiamo a salvare questo intanto, annaggia, ho, c'è, tra beccata, sorpresa, ma quanto vuole questa volta mi sa che dobbiamo sconfiggere tutti i gumba comunque qua adesso che c'è faccio un libro no la parte chiusa però che vuole qualche modo di un passaggio apri quel cassetto ma un cuore intanto ok anche alla finestra come ho fatto a capirlo bravo grande tommy un zambo raggio non sta caricando grande intuizione col tommy sta tendo verso di vendere ok bravissimo no io ho aprimuto il martello va bene sta attento ok prendi il martello vai va adesso non posso negli anni 2 di polvo che hai fatto volare io mi faccio è caduto ma non è che c'è la maschera sapevo che le stesse riuscite a sconfiggere un bambino di video che abbiamo incontrato prima sia un po meno bello però senza offesa che c'hava la maschera ma poi pensa tu ma poi sono tutti uguali però lì che c'era un vecchio d'acca tocca la punta lì che non ha capito quella televisione ogni modo non è l'uncino che cerchi come no ha lasciato nel palazzo dei montoni rossi e allora dobbiamo andare dal posto ai mattoni rossi adesso ma manco tutta la fatica che ho fatto no l'acqua tommy no non c'è lì abbiamo salvato un inferiore che mi ha fatto pure male vabbè tanto sia quando dovete mettere una macchina ma tommy di là non c'è niente ha detto al porto il porto mi sembra che dall'altra parte completamente ma entra nelle case che magari da delle cose no poi c'è niente ma poi una tappa andato andiamo a casa città di ok vediamo qua che c'è ma che ci danno che ne so un pochino con l'hamburghia e patatine tappa tappa c'è un tipo tipico sì ma quello non può passare dalla tavata che c'è un buco mi resta saltare il tipo che vuole questo perché sta piangendo quattiri piccolo gigante non è che vuoi la casa di pc certo stagliumore hanno mangiato questa posta quelli fagioli ma io non riuscire a fare se non sconfiggere questo bomba ho detto c'è la stanza superiore quando me li sto facciando a polina stare attento con il battello con il dito su un battello e qua che c'è basta cosa salta non è sento abbastanza no no da qui da qui vedi eh lo so se perché secondo me in quel baule c'è qualcosa che ci può servire però vedi guarda e dall'altra parte ci dobbiamo andare niente non ci andiamo dall'altra parte ma se corri no vabbè non ce la fa apri quelle volte è lento mario capito ma se apriva anche quelle volte non vanno anche alla scoperta e no vabbè quindi cosa vuoi fare adesso robin se non prendiamo le cose qua il ponte non si fa vabbè questo mi dispiace o ma lì c'è il gambeggio ma ne ho appena dicendo il padre ci possiamo prendere una limonata e gli occhie stecca lecca c'era il mio che stecca lecca non nascondendo qui finché le cose sia a posto se vedi qualcosa è un piccolo assaggio allora caffè lepre o caffè diminuisce prendiamo uno che ci aumenta la velocità e sappiamo dall'altra parte no già c'è un breve periodo e mi capita che sia per tutto il tempo solo per fare quest'altro pari ok vediamo se ce la facciamo sì ma non la prende adesso solamente quando sei vicino e non è la presa già già preso sì ma muoviti no l'ha già perso come ha fatto a perdere non può essere cofi 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 e saltare quando sei lì vai no riprovaci riprovaci l'ultima volta poi vabbè 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 proprio quando sei nel pelino 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 aspetta vai va beh dai forse andiamo a casa con i mattoni rossi non è questo qua con i mattoni rossi è al porto andiamo al porto è lontano sì ho detto attento tommy lo so che lo so sabbataggio no come no tommy dove sta andando a me lo so che mi piace mi racconti di rossi ti conviene sconfiggere ok vedi sì apri dopo mi conviene sconfiggere dopo mi sconfiggere dopo mi sconfiggere sono monete che so che vuole questo dai no devi tirare mi sa questo chi è questo chi è questo ma chi è sto questo ah meno male canocchio pensi che c'è qualcosa in quella scatola va va votaggio spacca colpisci di nuovo avanti così la testa ti cade ah gli artimani ancora ah per aprire quel muro sicuro aspetta guarda qua cosa c'è ecco un blocco nascosto non lo sapevi e ho visto che c'era un ombra ho visto bravo vai nell'alto magno va attento vai giù avanti 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 e non sto trovando il punto in alto no non può essere dai no no questo qua deve fare tommy così boom devi fare no per forza no aspetta non si può eccolo lì su era nell'angolino vedi e faccio ah lì qui 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 lo so no è di qua vedi è di qua e adesso che vuole fare dobbiamo andare a prendere l'uncino ma io attento vedi voglio fare una questione domi cosa fa adesso cosa fare che vuoi fare beh quando credo guarda che è una motore grande tommy è lì l'uncino eccolo dov'è oh ca ma come lo sapevi questo ma che parte perché è un questo lo sapevo ciao vai vai vedi che allonga ok moneta per questo uncino domi dai mamma mia che giro o fungo o fungo 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 che dici lo usi il fungo sono 34 vabbè anzi per prendere un po' di vita in caso no vabbè in caso dice la panchina che gravi no pendilo perché adesso ti saltano addosso questi e puoi perdere la vita aspetta ma lì c'è qualcosa scasse le casse aspetta quindi putteggio domi se ti salta addosso vai eh lo so aspetta cosa sto facendo c'è delle tecniche speciali cioè non te lo dico perché ti la mi hai e dai adesso ce la fai ce la fai adesso vai lo sto spaccando troppo vabbè vai adesso ok prendi il cuore quando ti dà il cuore vedi va bene tappa il buco che stai magari scappando cinciambi ok lui però dovrei salvarlo c'è posto un salvataggio veloce come dice salvataggio oh grande ok colpiscivello bravo no col culetto t'ha beccato vai vai adesso di nuovo vai 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 colpisci come non ci fosse tutto mai l'ho colpito non posso colpirlo in questo caso vai capisci ok vai attenta grande quindi tutta salva 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 se no poi tommy ricomincia a rifare quello ma perché non vuoi salvare ah però c'è mi fai fare avanti indietro e tommy ma è lì scusa ci sono anche tutte le foglie da prendere perdiamo tanto tempo ma va dobbiamo fare tantissime cose appunto tommy poi se no dobbiamo ricominciare ricombattendo con questi qua io non c'ho voglia di ricombattere con questi ah ti piace combattere con loro si perché e perché si vabbè ciao ciao aspetta ciao aspetti un po' di tempo vabbè anch'io però che devo passare dalle foglie cino apri i tubini vai guarda guarda vedo se ci sarà adesso uuuu salvataggio ottimo salvataggio dai siamo al sicuro diciamolo sotterraneo graffito ma aspetta tommy ma vogliamo se non interrompere qua o pure no ce la facciamo sei sicuro tommy perché si tantissimo tommy mi raccomando che sarà un po' troppo lungo che vuole ah c'è Todd è buone questo è il Todd questo vuole parlare ma io ma io ma io sono salvo Mario ho dovuto fuggire per l'isoletare origami che ha detto che ho visto mi sembra che parla tantissimo lui quindi super marino si andiamo andremo a vederlo si poi andiamo a vederlo ma non me ne frega niente cos'è champignon il super marino si si olivia lo sai che poi dobbiamo finire il video quindi dai forza e olivia come che continua qui andiamo amma mia sta olivia conto palla oh oh allora gli pipistrellozzi scatta scatta veloce non posso no ecco per farti la battaglia devo fare eh vabbè dai come ci tocca non possiamo aspetta concentrazione le masse due cosa facciamo eh si va bene e uno mettilo qua 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 lo so così perfetto grande pipistrelli scarpe vai tommy Sink, sink, sink Ok, va bene Questi avranno più vita dei Goomba Speriamo di manucinare Va bene, se le abbecchi bene Ok, 9 comunque basta Di vita Bonus battaglia, perfetto, dai Va bene, dai Abbiamo perso tante monete, va bene Tappa, tappa, tappa No, il cuore è un po' di se lo caduto Sì, va bene Vai, ma perché? Non è tanto grande La vita, la vita, la vita Occhio, c'è qualcosa Sì, qua sicuro Topi? Io topi Devo affrontarli Sì, sicuro Ok, perché c'è anche il blocco Oh, questi sono dove Dobbiamo metterli a frattello Non arrivo più Ok, so come fare Tu mosse, vero? Sì Guarda Come vuoi fare? Grande E poi? Bravo Due martelli così, Tommy? Sì, abbiamo pure due mosse Tommy, geniale Grande Bel colpo tutti i modi Dai Dai, dai, dai Tommy, ti bevo Vai, vai, vai Se non subiamo danni ce ne hanno pure più monete Vai, grande Grande Tommy Se in teoria lo fate subito ti dà bel colpo Però non è detto Grandissimo colpo di Tommy Beccatutto Ciuccia, ciuccia, ciuccia Ehi, vai Fungo Fungo Ma che vuole da dentro la lì? Ok, dai No, dai E dai E dai E dai E dai Tommy qua secondo me è scarpa e martello Vuoi vedere? Forse sì Scarpa e martello Ok So come fare due mosse Immagino Sì, sì Allora così Allora così Fai col No Occhio Così E questo la porti giù E poi questo fai martello Lo sapevo che la scappa e il martello, Tommy Cosa vuoi fare prima? Scarpe, loro Mi raccomando Scolla Uno Sono Non hanno tanta vita Quindi ce la facciamo E qua Martello, vai Vai col pazzo di metterla nella testa Bel colpo Ultimo Grazie Ultima ondata No, dai Ok, ok Vabbè, ma se li metti strezzati Vai, vai No, no, no Ancora Vai E non mi fa muovere Lo muovere è malissimo Non si muove Fai proprio così L'altro Ah, ok So come da fare Qui Vai, ci stezza tutto, Tommy, dai Sennò prendi le mosse Ok, perfetto Le scappe, prendi Sì, che si muove C'è di essere sincronizzato con l'A Solamente quando atterri Tranquillo Tranquillo Atterri 9 e basta Non ho capito Ma devi allenare per quelli dopo Oh, tranquillo Tanto poi avrei un po' Un baggiamento anche più forte Vai Fantastico E benissimo Vai, Tommy Eeeh Ma voglio vedere se ce ne sono altri che ci sfidano ancora Bellissima queste battaglie che hai fatto, Tom Grande Per gli dieci Ok Non è un banco e tanto spero Speriamo Ah, è andata a battaglia Ok, lì è il tubo del castello Sì, ma devi fare un'altra battaglia Che vuole Ehi, la G c'è un tubo Chi sa dove porta Sì, lo sappiamo Ma lo portai Andando a sale Che lì c'è un tubo da tappare Stavo continuando a parlare Non è allagato Ah, non possiamo Perché ci inzuppiamo Dobbiamo Prima vedere Lì c'è una manufella Come Luigi Nelson Ah, sì Eh? Come cerchiamo? E io in questi casi No No No, no, no Mi sa che Mi sa che poi ci danno gli artimani Mamma mia questo Cosa ha fatto? Allora, Tommy, questi qua li li mette in linea Questo Vai Troppo No Così Sì Poi Altre due mosse Quello lo devi avvicinare Ah, no Così Avvicinalo Perfetto Grande Tre mosse ce ne abbiamo? Sì Due tre mosse Scalpe Dobbì sta andando alla grandissima con le battaglie 12 fantastico alla fine Ottimo C'è più monete, giusto? Forse sì Scalpe Vai Due fantastico Benissimo E martello Vai Forse martello fa più danno Vai Bel colpo 12 Sul martello vai sempre benissimo Vabbè Se 12 è fantastico sulle scarpe e martello fa più danno Bene In effetti una martellata L'alto magno C'avevi ragione L'alto magno Vai Ho una piastella da manforte Chissà cosa sarà Va Vai Vai stanza arriva No vabbè No Gira e lascia Gira Eh lo sto facendo Lascia Lascia Ancora Eh No Devo ritornare Vabbè Fai lo tanto Allora Ve lo fatto Così E lasci Ah Così E lasci Così Ok Tieni qua Fatto 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 Adesso L'acqua di là Ci toglie Ottimo Allora torniamo Dai Smolla la stanza Ok Spero che ci sia un punto di salvatore Sì ma sbrigiamoci Ma che salva Qua Privia Vai Sali 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 Bene C'è anche L'acqua sparita Sì ma Moriamoci Non mi convince qua Se non mi metto l'acqua Lì c'è Non mi viene Ah lì c'è un coso Lì vabbè Non lo prendiamo C'è uno strappo strambo Ma che è un altro giocattolo Il come che ha detto un vino Ma questa c'è dei giocattoli strani Oh 100% Ho letto di qualcosa Abbiamo fatto tutto No Non di tutto tutto Ma di qualcosa sì Ottimo Ha salvato Non mi sembra di no Sì Anche secondo me Speriamo che ci sia un punto di salvataggio No Già già l'ha salvato No Prima Prima No Mentre siamo andati Quello No Mi sa di no Io ho letto salvataggio Sì Andiamo per sicurezza Avanti a vedere Lì c'è un blocco di salvataggio Andiamo a prendere Dai Poi c'è la macchina nostra È di Luigi Oh 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 Luigi dove sei No Mi piace qualche questione No dai No Non c'è sicuro Luigi Eh Però il cappellino di Luigi No So che cosa c'è qua Tranquillo Non ci sono questioni Sì Guarda il cappellino di Luigi Guarda il cappello di tuo fratello Eh Qualcuno ha scritto Luigi Caratteri piccolissimi Pensi che lo dovrebbe Luigi stesso? Secondo te sarà male Boh Aiuto Luigi No C'è una pietra che sta parlando Aiuto Sono tutto piegato da qualche parte Forse in un parco tra le dimensioni Aiuto Ma a me è sembrato che c'era qualcosa lì nella pietra O è la stella che la vegeva Povero Luigi Temo che l'incontro dovrebbe essere riservato No penso che sei morto Luigi Ma Ma C'è veramente No Luigi vive qua sicuro Puoi scassare mezzo mondo? Ah dobbiamo andare lì sicuro Sì ma andiamo a sabbataggio E poi Eh mi sa che Luigi di togliere carte E le chiavi c'era lui? Eh sì Ma che c'è? Ti posso quella che vi? Ma almeno ce l'avevo Ok Ok Andiamo di qua Arti Magno ci saranno Sarà come l'Olivia Sono me Dici? Sì Dai dai Cerco di sbrigarmi Ok Sono qui vicino fratellone Arti Magno infatti Sarà dentro il muro come Olivia E una volta che le buonemole in giro posso giocare voi? Non credo proprio Dai vai Vai Ferma No è lì so Vai Luigi Ma hai un pezzo di Luigi No tutto Luigi è piegato Ah mi sembra Sono salvo che strana sensazione Dai lì con po' di mattello Non mi fai male Non mi fai male Che avevi detto di farmi dare lì un colpe di cappello Più o meno Oh abbiamo liberato Luigi E adesso? Eh lui deve fare altre cose Che deve fare? Ha detto che lui deve andare a cercare la chiave Nel castello di Piccia Luigi? Sì Quindi lui non sarà mai con noi No Essere terribile Ah un tipo timido l'aveva bloccato Cioè dice che non fatti beccare di nuovo Dai il mio cappello Ma cosa è successo? Al castello piuttosto Va bene Luigi E la principessa dove è? Venga Dagli sto cappello Vabbè sì Luigi Sì avanti andavi da la principessa Le solite cose Su dai avanti Ah giusto Dai dagli sto cappello Siamo in continuazione Invecele ricambiare Sì sì dove sta facendo Um 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 Ok adesso se ne va Il cappello Un cappello Luigi Ma Vabbè Ce l'abbiamo noi Le lo diamo in caso Ma scusa Luigi Un cappello Eh infatti Ah ecco Scusa Eh Questa mi serve Pacheggiatore Scusi può spostare la macchina Beh ora Andiamo a salvare Dall'attavaggio Salviamo che così possiamo finire finalmente Sì sì Sono venuto un po' lungo E poi scuggiante Vedere Mario che salta e basta Allora dai Tan 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 Mi dice per tolte i carti Ma non si guarda la palla Ma poi ha parcheggiato Vabbè con le foto Io ci sono delle monete Vabbè 300 monete Voglio vedere come ha parcheggiato adesso Ha tolto? Sì Sono andato proprio Ha fatto Ah guarda le sgumate che ha fatto Dai Olivia dobbiamo salvare Sì Sì Troppo facile Sì Troppo facile Sì Ok Va bene In che senso è troppo facile cosa? Mi aspettavo qualche mosto sorpresa Che non mi faceva salvare senza Va bene Va bene Va Va Ok ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Ci vediamo nell'episodio numero 4 Vedremo che cosa dovremmo fare Sicuramente dovremmo postare da quella torre Qualcosa del genere Comunque andiamo Ciao Ciao ciao